Buonasera e bentornati a D-Sport dopo la pausa estiva, al programma che porta lo sport di Sabri nelle vostre case. Oggi, a settembre, possiamo dire che è passato un anno dalle Paralimpiadi di Londra, a cui la nostra trasmissione aveva dedicato una puntata speciale con immagini e con interviste, e oggi parleremo proprio di questo, di questo primo anniversario, che ci porta già però un po' a pensare al prossimo appuntamento paralimpico, che è quello dei giochi paralimpici invernali di Sochi, che si svolgeranno in Russia a marzo. A parlare con noi di questi argomenti abbiamo, come sempre, Tiziana Nasi. Buonasera a tutti. Grazie per essere tornata con noi. Uno dei suoi atleti che speriamo si metteranno in mostra a Sochi, che è Alessandro Daldos. Ciao a tutti. Atleta di sci alpino, già vincitore di due ori e tre argenti in gare di Coppa del Mondo. E il terzo ospite di oggi, Dulcis in fundo, è il direttore di Quarta Rete, Darwin Pastorin, che io ringrazio di essere qui con noi. Allora, appunto, come dicevo, è passato un anno dalle Paralimpiadi di Londra, noi ci siamo stati, tre di noi ci sono stati, Alessandro magari le ha seguiti in televisione, poi ne parleremo bene. Tiziana, un anno fa eravamo appena tornati da Londra. Che cosa ti è rimasto di questa esperienza? Tu hai visto molte Paralimpiadi, però. Una gran paura di non fare altrettanto bene a Sochi. No, è assolutamente entusiasmante. Pochi giorni fa ero all'Arena di Verona, che adesso dico a Rona per fare più in fretta, ma ero all'Arena di Verona con il Comitato Paralimpico. a questa serata hanno partecipato molti atleti che erano a Londra, anche atleti medagliati a Vancouver. Effettivamente le emozioni che si sono vissute in quei giorni sono state straordinarie e un grande messaggio, perché credo che se Vancouver era già stata vista da tanti, se Londra è stata vista veramente da tutti. Torino 2006 è stata forse l'ultima che ha avuto un po' di difficoltà, però per l'Italia sicuramente è stato un bel lancio anche la nostra amata edizione dei nonni giochi paralimpici di Torino. Grazie. 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 Grazie.